ciao ragazzi vediamo un video oggi siamo su un vlog allora signori vediamo un video oggi ho cancellato qua e non c'è la memoria viene sul telefono ma si grazie perché faccio i orecchi vabbè allora siamo su un vlog e vabbè vado a fare quell'ore e ragazzi grazie tutto il sopporto che mi guardate sempre sotto i video grazie 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 allora qui mi chiedono dov'è il confiughe di massimo ragazzi il confiughe non usano più guardate ma non c'è più ma non c'è più ragazzi perché oggi devo dire una cosa importante il confiughe non lo voglio più io io voglio vivere la mia vita insieme alla mia famiglia io non posso stare se il mio mare ha la PlayStation 4 al pc la vita mia è solo o il telefono o il youtube o il get away o e mamma se stai guardando il video con chi li guarda tutto ragazzi questo è un vlog per 15.000 iscriviti grazie di cuore anche la maglietta swag così e se mi chiamo plus video e anche arriverà anche obbligo con Giulia a parco e sempre la parco la lasciamo ovvio verità e ragazzi il video ci riesce con la scelta e non mi piace mi piace allora un altro video bella 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 so che sai bella